DEN. Da circa vent'anni mi occupo di progettazione di biblioteche di luoghi per la cultura. Ho iniziato a occuparmi di biblioteche, di progettare biblioteche all'Università. Progettare biblioteche mi ha subito appassionato. Poi nel 1995, prima di laurearmi, avevamo 23 anni con altri colleghi, ho aperto una società di progettazione e ho iniziato a occuparmi di questi temi anche a livello professionale, a occuparmi nella realtà. Poi nel 2001 è uscito un concorso, un concorso internazionale molto importante a Milano per la famosa, immagino che molti di voi sappiano di cosa parlo, Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Sarebbe stata la più grande biblioteca pubblica italiana e una delle più grandi in Europa. E allora era uscito questo concorso e mandai una mail a un architetto che ammiravo, che mi piaceva molto, Peter Wilson, che aveva studiato a Münster. Io in un interrail l'anno prima ero andato a vedere una biblioteca che lui aveva progettato, che aveva realizzato a Münster, ancora adesso secondo me una delle biblioteche più interessanti costruite negli ultimi 40 anni. E gli scrissi questa mail dicendogli che siamo un giovane studio, eccetera, è uscito questo concorso, perché non lo facciamo assieme? Questo concorso l'abbiamo vinto. Abbiamo sviluppato, elaborato tutto il progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Il progetto è stato anche approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi è rimasto sulla carta, come tanti progetti in Italia. Ed è stato un gran peccato, non solo ovviamente per noi, ma secondo me anche per Milano, diciamo anche per il nostro paese, perché comunque probabilmente questa biblioteca, che è molto più di una biblioteca, sarebbe potuta essere per Milano quello che il Boburg è stato per Parigi negli anni Ottanta. Era una biblioteca enorme, 60.000 metri quadri, 3.000 posti a sedere, 500.000 volumi a scaffale aperto, oltre 3 milioni di volumi a deposito. C'erano tante cose dentro, però è rimasta sulla carta, peccato. Però comunque di progettare biblioteche non ho più smesso e ne ho progettate tante, costruite anche diverse. Mi sono occupato però di questi temi non soltanto a livello di progettazione architettonica, degli arredi, degli interni, d'accordo, ma anche a livello di progettazione funzionale, perché l'architettura dell'edificio, l'architettura del servizio, sono le due facce di una stessa medaglia, sono fondamentali entrambe. E quindi elaborando linee guida, programmi funzionali, studio di effettabilità, persino in alcuni casi progettazione dei servizi. E quello di cui vi voglio parlare adesso è proprio questo, cioè ho cercato di elaborare anche a livello teorico, scrivendone anche tanto, un nuovo modello, per così dire, poi non c'è una ricetta precisa, non c'è una ricetta univoca, e attenzione, però diciamo un nuovo modello, verso un nuovo modello di biblioteca pubblica, da declinare ovviamente calata nella realtà italiana. Ma però facciamo un passo indietro. Ma servono ancora le biblioteche oggi, le biblioteche pubbliche? Attenzione, parlo in questo caso solo di biblioteche pubbliche, non parlo di biblioteche universitarie, non parlo di biblioteche di conservazione, perché tanto c'è tutto su internet, c'è tutto su Google. E allora, diciamo, la funzione primaria che la biblioteca ha sempre avuto è quella di centro di diffusione, trasferimento della conoscenza, di promozione della lettura, di supporto alla formazione nel senso più ampio del termine. E le nuove tecnologie non inficiano questa funzione, che resta fondamentale, anzi l'amplificano all'ennesima potenza, possiamo dire, perché le biblioteche oggi diventano, le biblioteche pubbliche in particolare, a mio avviso, centri, laboratori di informazione, porte di accesso e strumenti di orientamento nell'universo multimediale, contro il divario digitale, tra coloro che in vario modo hanno accesso agli strumenti e soprattutto al know-how del mondo dell'informazione digitale, coloro che per varie ragioni ne sono tagliati fuori. Ma il problema del divario digitale si sta ulteriormente complicando, perché sempre più gente ha accesso a internet attraverso, chiaramente, gli smartphone, ma, come abbiamo sentito anche stasera, ne fa un uso pessimo. Non si sa districare tra le fake news, non si sa orientare nei meandri della cosiddetta amministrazione digitale. E in tutto questo le biblioteche pubbliche possono essere in prima linea, ma non per smascherare le fake news, non è questo il loro compito, ma per fornire alle persone gli strumenti per capire l'attendibilità delle fonti. E chi altro, d'altronde, può dare questi strumenti a persone che sono ormai uscite da qualsiasi, come dire, circuito di formazione scolastica, oppure alle persone anziane? La terza funzione, a mio avviso, persino più importante che le biblioteche pubbliche oggi possono, devono avere, è quella di luogo di aggregazione sociale. Piazze urbane, nuove piazze urbane, per incontrarsi, per comunicare, per consolidare il senso di appartenenza a una comunità, a una collettività, contro l'esclusione, contro l'isolamento, perché nessuno rimanga indietro. E allora la biblioteca, la biblioteca pubblica, è uno degli ultimi luoghi realmente pubblici rimasti. Un luogo in cui possono incontrarsi, conoscersi, anche pagare per caso, persone completamente diverse tra loro, per età, per formazione, per provenienza, per cesso sociale. E soprattutto oggi che i centri commerciali, i centri polifunzionali di intrattenimento sono i principali centri di aggregazione, soprattutto per i giovani. E soprattutto le biblioteche pubbliche sono particolarmente preziose perché hanno due caratteristiche che altri luoghi non hanno. Sono luoghi sicuri e sono luoghi neutrali. Non neutri, neutrali. Molto diverso. Uno dei pochissimi luoghi pubblici rimasti dove la dimensione individuale e quella collettiva si possono, come dire, incontrare, liberi dal condizionamento dell'ossessione all'acquisto, della compulsione all'acquisto, dell'ossessione al consumo. E allora, certo che le biblioteche pubbliche sono fondamentali ancora oggi. Anzi, le biblioteche pubbliche sono le pietre angolari di una società democratica sana e vivace. Sono strumenti per consolidare il capitale sociale di una comunità, strumenti di coesione e di inclusione sociale. Però dobbiamo capire di che biblioteca stiamo parlando. perché, per rilanciare il suo ruolo, come ve lo sto raccontando, a mio avviso la biblioteca pubblica deve cambiare, in alcuni casi radicalmente, sia come servizi che come spazi. Le biblioteche devono passare dall'essere luoghi di conservazione all'essere luoghi di conversazione. È un piccolo unagramma, un gioco di parole, ovviamente. Ma è una rivoluzione, in alcuni casi, copernicana. Le biblioteche come luoghi del dialogo, luoghi di incontaminazione. Perché oggi, per le biblioteche pubbliche, è più importante essere luoghi di connessioni che luoghi di collezioni. Così, o almeno, le biblioteche pubbliche dovrebbero essere. E, invece, moltissime biblioteche italiane sono ancora oggi, sostanzialmente, sale studio e magazzini di prestito libri. E hanno, in media, un indice d'impatto tra il 5% e il 10%. L'indice d'impatto è la percentuale di popolazione locale che frequenta la biblioteca, sostanzialmente, non in modo abituale. Allora, qui siamo a Reggio Emilia. Le biblioteche del sistema bibliotecario di Reggio Emilia superano anche il 20% di ingegni d'impatto. Nella provincia ci sono biblioteche che sono, come dire, assolutamente delle punte di diamante. Non conosco l'Albinea, conosco Cavriago, il Multiplo, che arriva anche a superare il 40%. Ma sono eccezioni. Non è la regola italiana. La regola italiana è molto diversa. La regola italiana è lo zero virgola, talvolta. O, ripeto, quando si arriva al 15%, al 20%, bisogna brindare e festeggiare. Nord Europa si supera il 40%, il 50%, il 60% di indice d'impatto. Ma, però, voglio fare un po' il ragionamento inverso, no? Fare un po' l'avvocato del diavolo. Ma se la mia biblioteca è sostanzialmente soltanto una sala studio o un magazzino di libri, magari collocata in un edificio brutto, scomodo, che è chiuso nel mio tempo libero, ma perché mai io dovrei andarci? A meno che non ho l'urgenza di prendere in presto un libro che non voglio o non posso comprare. E che poi magari faccio fatica a restituire perché non c'è l'autorestituzione, no? E la biblioteca è chiusa. E allora capite bene che è un circolo vizioso. Capite bene che le biblioteche vanno completamente ripensate. Le biblioteche devono diventare dei luoghi molteplici. Qui avvengono tante cose in cui, d'accordo, sono e continuano e continueranno ad essere piene di libri, e di film, e di musica, e di internet, e di wifi gratuito, e di giornali, riviste, però anche di tantissime altre attività, concerti, presentazioni di libri, gruppi di lettura, corsi di formazione, corsi per il tempo libero di ogni genere, tutta una serie di attività culturali. Spazi fluidi dove tablet e libri convivono, senza soluzioni di continuità. Dove incontra anche un posto bello, dove incontrarsi e prendere un caffè con gli amici in un luogo però che è ricco di stimoli. Stimoli culturali, evidentemente, no? Luoghi in cui avvengono tante cose contemporaneamente. Servizi che offrono servizi per la cultura, la formazione, l'informazione, il tempo libero, la creatività, l'immaginazione. Non solo lo studio. Catalizzatori urbani di promozione di attività e politiche culturali. Il catalizzatore è in chimica una sostanza reagente, è qualcosa che è in grado di attivare un processo, no? E allora, perché non ho citato i libri, la promozione della lettura? Ma perché la situazione è questa in Italia. Il 60% della popolazione italiana, secondo tutte le statistiche correnti consolidate da più di dieci anni, legge meno di un libro l'anno. Circa il 9% legge più di cinque libri l'anno. Solo il 9%. E allora, se io vado a combinare queste statistiche, mi rendo conto che se io progetto, realizzo e gestisco una biblioteca che è focalizzata soltanto su promozione del libro e della lettura, mi rivolgerò a stento al 20% della popolazione come utenza potenziale. E allora forse sto sbagliando, perché l'80% restante a cui mi devo rivolgere è quello che ha maggiormente forse bisogno delle biblioteche. Non posso delegare ai centri commerciali, la delega per l'appunto di occuparmi del tempo libero di una fetta così ampia della popolazione. E allora bisogna anche ragionare su altro, bisogna ragionare sui luoghi, sulla bellezza di un luogo. Nel momento di massima diffusione dei social network, le biblioteche devono puntare su quell'unica cosa che Google, Facebook, Amazon non avranno mai, la fisicità di un bel posto dove andare, dove incontro il bibliotecario che mi sorride e mi orienta nelle mie ricerche, dove incontro amici veri che sono il contraltare dei miei amici virtuali. Ed è qualcosa che all'estero hanno capito molto bene. Non è un caso se all'estero al progressivo calo degli indici di presto libri che è generalizzato in tutte le biblioteche europee non corrisponde un calo degli indici di frequentazione delle biblioteche, perché le biblioteche sono dei bei posti. E questo, proprio un bel posto dove andare, è stato lo slogan che noi avevamo coniato in un progetto che abbiamo fatto qualche anno fa, la Medateca di Meda, che abbiamo inaugurato nel 2012, e che ancora oggi, a distanza di sette anni, fa settecento, mille visite al giorno. Siamo vicino Monza, in Vrianza. E questo era proprio un luogo, come dire, un luogo bello, piacevole, attraente, pieno di attività per grandi, per bambini, per i piccoli, per gli anziani, in cui succedono tante cose. Questo è Melso, un'altra biblioteca, made da 2.000 metri quadri, anche questa circa 2.000 metri quadri, sempre vicino a Milano. E anche questo è pensato come uno spazio accogliente, flessibile, con tanti ambienti differenti tra loro, no? Non solo una grande sala di lettura, non solo un magazzino di libri. Qui ognuno può trovare delle cose. Questo è Comano, 800 metri quadri, Comano Terme, vicino a Trento, l'abbiamo inaugurata due mesi fa. Anche qui, spazi accoglienti, informali, flessibili, luminosi, colorati, dove si suona anche il pianoforte, perché no? Dove anche lo spazio per i bambini è pensato, tutti gli spazi per i bambini sono tutti diversi. Non vado a ripetere sempre le stesse soluzioni comunque. Ancora più piccole, Morbegno e Tirano, circa 500 metri quadri, dove vedete che la stessa idea di informalità, di flessibilità, viene declinata anche in spazi più piccoli. Qui ancora più piccolo, 320 metri quadri, Cas Poggio, provincia di Sondrio. Questo è il primo, evidentemente, e questo è il dopo. Ma non è che abbiamo soltanto abbattuto due tramezzi interni, messo due scaffali colorati, qualche lampada carina, che è fondamentale tutto questo, ovviamente. Qui è stata ripensata anche radicalmente l'organizzazione funzionale. ripensando la biblioteca come spazio flessibile, accogliente, dove ciascuno trova qualcosa di bello da fare. Chi gioca a carte, chi studia, chi legge, chi legge un libro, qualcosa di bello anche per i più piccoli. E allora non è però comunque abbastanza. concludo, come dire, focalizzando cinque concetti chiave, che a mio avviso devono informare qualsiasi progetto di biblioteca pubblica, che voglia essere realmente efficace. Il primo è serendipiti. Le biblioteche come luoghi di idee, di ispirazione, luoghi di narrazione, di combinazione, di interpretazione, che mi portano a trovare quello che non sapevo di stare cercando, e che mi portano a trovare qualcosa sempre di bello, di inaspettato, di emozionante, che mi spinge a, come dire, a battere un pregiudizio, a cambiare idea sulle cose, attraverso i libri, ovviamente, ma anche attraverso le attività che ci sono dentro. Le biblioteche come luogo di apprendimento, ovviamente, luogo di scoperta, di formazione, di alfabetizzazione, attraverso corsi, conferenze, laboratori, spazi per lo studio, spazi per lo studio di gruppo fondamentali, sempre più importanti, servizi di learning. Le biblioteche come luoghi di persone, luoghi di incontro, di socializzazione, di partecipazione. Nelle biblioteche io devo trovare degli spazi belli, rilassanti, dove posso anche, come dicevo prima, prendere un caffè con gli amici. Ma le biblioteche possono anche essere delle nuove agora, luoghi di cittadinanza attiva, di partecipazione. Le biblioteche come luogo di esperienza, luogo esperienziale. luogo di co-creazione, interazione, coinvolgimento, dove l'utente non è soltanto un fruttore passivo, ma può essere anche un protagonista attivo che metta a disposizione magari i suoi talenti, le sue competenze, perché no? E poi anche le biblioteche come laboratori, laboratori per fare esperienze di tante cose diverse, laboratori digitali dove sperimentano nuovi strumenti, nuove app, realtà virtuale, realtà aumentata, oppure anche laboratori di riscoperta delle tecniche artigianali. E attenzione nelle immagini che vi sto mostrando, non ci sono soltanto Colonia, Helsinki, Copenaghen, Horus, eccetera. Ci sono Cavriago, qui vicino a Reggio Emilia, c'è Pistoia, la San Giorgio di Pistoia, c'è Sala Borsa, c'è Paderno Dugnano, c'è Cinisello Balsamo. Quindi non è che dobbiamo necessariamente andare in Nord Europa per vedere delle buone pratiche. e infine le biblioteche come luogo di creatività, incentrate sull'innovazione, sulla sperimentazione e soprattutto sul gioco. E allora le biblioteche si riempiono di Eker Caffè, Fab Lab, Maker Space, Coder Dojo, tutta una serie di neologismi che indicano attività anche molto diverse tra loro, che hanno a che fare alcune analogiche, alcune digitali, ma che tutte hanno a che fare con l'innovazione e con il gioco. Nelle biblioteche, per esempio, si riempiono di Maker Space, dove trovo stampanti 3D, taglia e cuci, macchine da cucire, termopresse, button makers. Ma perché? Cos'hanno a che fare queste cose delle biblioteche? Perché la biblioteca è un luogo dove posso anche imparare a fare delle cose, perché la distinzione tra ciò che riguarda i libri e ciò che non lo riguarda è sempre più evanescente, sempre meno rilevante e sempre meno lo sarà. biblioteche dove posso anche andare a fare videomaking, registrare, suonare musica. E allora la biblioteca come spazio flessibile, modificabile, non gerarchico, uno spazio di libertà, uno spazio per l'immaginazione, ricco di contenuti e in grado di evolvere, ma soprattutto, come vi dicevo, un bel posto dove andare. Grazie. Grazie.